Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova tavola rotonda della rivista Notizie, il magazine della regione Piemonte. Questa nuova puntata è dedicata al tema del voto e delle donne in occasione di un anniversario molto importante. Quest'anno infatti ricorrono i 70 anni dal primo voto delle donne in Italia. Il suffragio universale femminile infatti venne sancito da un decreto del 45, il decreto Bonomi, e la prima occasione durante la quale ci fu la possibilità di votare per le donne fu proprio l'anno dopo, nel 46, prima ancora del referendum del giugno, già nelle amministrative del marzo 46. Questo avvenne per alcuni comuni, 5.700 comuni, e poi per tutta Italia con il 2 giugno del 46, il momento in cui gli italiani decretarono la Repubblica. A riflettere su questo tema, oggi abbiamo delle ospiti, quindi un tema tutto al femminile, che passo a presentare e sono l'assessora regionale alle pari opportunità e consigliera regionale di Sinistra, Ecologia e Libertà, Monica Cerutti, la consigliera del Movimento 5 Stelle e presidente della Consulta delle Lette, Stefania Bazzella, la vicepresidente del Consiglio regionale e consigliera di Forza Italia, Daniela Ruffino, e la consigliera del PD, nonché presidente della Quinta Commissione, Silvana Cossato. Bene, come prima domanda io vi chiedo, dopo questa importante conquista di 70 anni fa, che cosa è cambiato. Vi chiedo di tracciare un sintetico bilancio, secondo voi, delle più importanti trasformazioni di questi 70 anni di vita politica delle donne. Comincia l'assessora? Prego. Sì, credo che tante cose siano cambiate e certamente grandi passi avanti. Noi siamo abituate forse più a valutare che cosa ancora non va, e quindi a guardare, come si dice, il bicchiere mezzo pieno, anziché appunto, diciamo, mezzo vuoto, anziché mezzo pieno. Credo che, e tra l'altro anche quelle che sono le classifiche tra gli stati, i 145 stati che danno appunto la classifica rispetto al global gender gap, quindi a quello che è il gap sul genere, ci dicono che l'Italia, soprattutto in questi ultimi anni, ha fatto grandi passi avanti sul tema della rappresentanza. Ha guadagnato rispetto all'ultima classifica ben 28 posizioni e quindi si pone al 41-42esimo posto sul 145 stati. Mentre, e questo è il dato secondo me rilevante, rispetto a quello che invece è il gap economico, è al 111 posto. Quindi significa che abbiamo ancora grossi passi avanti da fare rispetto a quello che è il gap salariale, rispetto alla presenza della donna nel mondo economico. E quindi mi sembra di dire che, se abbiamo fatto passi avanti nell'ambito politico, non siamo ancora riuscite, lo dico in prima persona, a trasformare questi grossi passi avanti anche in passi avanti dal punto di vista della presenza della donna nella vita economica. E certo, il tema della mancanza dei servizi, il tema del poco sostegno alla maternità, è uno degli elementi che continua ad essere appunto una discriminazione nei confronti delle donne, 70 anni fa probabilmente così come ancora oggi. Sì, abbiamo sicuramente, sono trascorsi 70 anni, in questi 70 anni abbiamo fatto dei grossi passi avanti. C'è stata una grande emancipazione femminile. Le donne hanno lottato per avere i diritti che oggi abbiamo e che abbiamo raggiunto sicuramente con grande fatica grazie alle battaglie, ai sacrifici, alla determinazione delle donne. Però è anche vero, come ha affermato l'assessora Ceruti, che abbiamo sicuramente ancora tanto da fare. La strada è ancora lunga, soprattutto nel campo economico e sociale, nel mondo lavorativo. Ci sono ancora le discriminazioni nel mondo del lavoro. La donna riveste, è vero che la donna riveste ruoli di grandi responsabilità, anche nei consigli di amministrazione, anche nelle varie istituzioni, nelle cariche politiche. Però, rispetto alla percentuale delle donne presenti, sono sicuramente nettamente inferiori rispetto a quelle maschili. Quindi c'è ancora tanta strada da fare, anche se penso al diritto della famiglia, al diritto alla maternità. Le leggi sul diritto della maternità, fortunatamente in Italia abbiamo una buona legge, ma non è sufficiente, dovrebbe essere rivista sotto questo punto di vista, perché le donne, ahimè, le donne madri lavoratrici, sono ancora altamente penalizzate e discriminate in tal senso. Stessa cosa per quanto riguarda la lotta, il contrasto alla lotta contro la violenza. nonostante siano trascorsi 70 anni da quella data importante, dall'istituzione e la fondazione della Repubblica Italiana, che è una Repubblica democratica, e anche dal settantesimo anno, dal voto delle donne, le donne, ahimè, devono ancora combattere una lunga battaglia in tal senso. È vero che ci sono state ultimamente, negli ultimi anni, delle leggi che hanno comunque, che hanno e che tutelano la donna, penso alla legge sullo stalking, le pene che sono state aumentate, le pene previste per gli stupratori, per coloro che commettono atti di violenza nei confronti delle donne. Però vorrei ricordare che siamo a febbraio del 2016 e solo nell'arco di 40 giorni, 45 giorni, in Italia oltre 10 donne sono morte a causa della violenza, vittime dei loro compagni, e quindi tutto questo dovrebbe far riflettere. Concludo dicendo, è vero che c'è stata una grande emancipazione, è vero che la donna ha finalmente avuto un ruolo da protagonista, c'è stata una scelta individuale, la donna ha potuto votare e nello stesso tempo non ha avuto solo il diritto al voto, ma anche il diritto ad essere votata. Ci sono state delle continue lotte nell'ambito sociale, economico e politico, però, ripeto, la strada è ancora lunga. E dobbiamo prendere esempio da tutte le donne che ci hanno preceduto e che oggi non ci sono più, che hanno dato la vita affinché noi oggi potessimo avere i diritti che abbiamo. Innanzitutto credo sia giusto e doveroso ricordare questa data, perché molte di noi, molte giovani forse, danno per scontato o non hanno mai riflettuto su questo diritto. E quindi anche ricordare che sono 70 anni dal voto è un momento di condivisione e di riflessione sulla presenza delle donne in politica importante. Possono sembrare una data lunga, possono sembrare molti anni, ma invece sappiamo che siamo arrivati nel mondo occidentale buoni ultimi, ecco. E quindi da questo punto di vista dobbiamo anche... è un sintomo, diciamo, della fatica che il nostro paese ha ad essere al passo sulle possibilità e sulla presenza delle donne in politica. Sicuramente in questi 70 anni ci sono state delle grandi trasformazioni. Io parto da un presupposto che, così come la società è composta da donne e uomini, è indispensabile che in tutti i luoghi dove si decide, dove si prendono, dove si governa, dove si prendono delle decisioni, ci sia questa giusta rappresentanza, ci sia questo equilibrio tra donne e uomini. E quindi è chiaro che non c'è soltanto il tema della partecipazione al voto o del fatto di poter essere elette, ma c'è anche il tema della garanzia di avere spazi e opportunità. In questo senso io sono una sostenitrice delle quote, cioè di politiche e di norme, di leggi che garantiscano la presenza effettiva delle donne nei luoghi della politica e della decisione, negli enti locali così come nelle assemblee elettive. Soltanto negli ultimi anni il Parlamento ha recepito questa istanza che arrivava dal mondo delle donne con sia la modifica costituzionale che le leggi specifiche sulle elezioni, buon'ultima quella sulle elezioni nei consigli regionali che quindi ci vedrà anche coinvolte come assemblea elettiva del Piemonte che impone per legge e certo questo forse è un aspetto può sembrare ad alcuni negativo ma ha il vantaggio di dare una svolta significativa impone per legge delle quote e delle rappresentanze dei minimi al di sotto del quale la presenza femminile non può andare e abbiamo già visto come per esempio nei consigli comunali eletti con la doppia preferenza negli ultimi anni la presenza femminile in queste assemblee elettive sia tornata ad essere significativa perché deve essere significativa ripeto perché quando si affrontano delle proposte di legge quando si affrontano dei provvedimenti ci siano entrambi in punti di vista nell'affrontare quel tema e sicuramente la presenza delle donne nel Parlamento comunque negli anni ha condizionato fortemente la stagione delle riforme e delle leggi al femminile pensiamo a tutte le leggi degli anni 70 dalla legge sul divorzio al diritto di famiglia che poi si è concluso quel decennio con la legge sull'aborto quindi una grande stagione di rinnovamento che è stata fortemente condizionata dalle parlamentari e dalla presenza delle donne in Parlamento io credo che senza quella presenza quelle leggi non le avremmo avute è chiaro che accanto alla presenza delle donne in politica è stato ed è forte ed è importante il ruolo delle donne nella società e quindi la spinta che dal basso arriva a chi governa a chi fa le leggi grazie io penso un aggiornato un momento importantissimo che ci deve vedere impegnate nel parlare di questa grande opportunità soprattutto alle giovani generazioni ai ragazzi ragazze in questo senso intendo la platea scolastica che deve comprendere il grande cammino che si è fatto certamente a frutto di sacrifici ma oggi con risultati importanti abbiamo tantissime donne sindaco donne che amministrano bene le loro città e credo che questo sia l'esempio e la prova assolutamente più importante ma se le donne in politica lentamente prima e ora più velocemente hanno fatto grandi passi ci sono dei dati che invece debbono farci riflettere e sono quelle quelli legati all'occupazione femminile nel senso che l'Italia è al 69esimo posto nell'Unione Europea che cosa significa questo significa che noi abbiamo donne che hanno meno opportunità donne che in qualche modo dipendono dai loro mariti e questo è certamente un dato che mi preoccupa molto molto di più credo che in questo la politica debba fare grandi passi ovviamente riuscendo a offrire delle opportunità dall'altro lato cito ancora la legge Golfo Mosca del 2012 se non ci fosse stata questa legge avremmo impiegato 60 anni nel avere donne in posizioni ad esempio nei consigli d'amministrazione però conta molto l'ottimismo con cui si affrontano questi momenti la capacità di divulgarli di creare anche forse quella possibilità di affrontare queste imprese con la serenità di riuscire a dire alle donne che abbiamo che ci sono delle grandi capacità e che insieme insieme agli uomini si possono raggiungere questi grandi risultati un appello comunque lo faccio a chi amministra oggi a livello comunale regionale piuttosto che a livello nazionale che è quello legato nell'impiegare maggiori risorse per offrire servizi alle donne parlo di asili nido parlo di case di riposo per i genitori anziani perché sarà questo che permetterà alle donne di fare ulteriori passi e di avvicinarsi alla politica e comunque di essere libere nel quotidiano per ricercarsi un lavoro ecco un secondo aspetto che vorrei mettere in luce sono le aspettative cioè l'aspetto culturale secondo voi quanto e in che cosa poteva essere diversa una giovane che andava alle urne per la prima volta nel 46 da una ragazza del 2016 prego innanzitutto aveva 21 anni quella ragazza questa è la prima differenza no forse bisogna ricordarlo perché anche qui il voto ai diciottenni che arriva nel 75 anche oggi è dato anche questo dato per scontato la maggiore età il voto è la maggiore età a 18 anni e invece appunto nel nel 46 come la maggiore età si raggiungeva 21 anni e si e si e si votava a quell'età e qui credo che sicuramente appunto più grande quindi probabilmente si pensava appunto che fosse necessario avere un'età maggiore per essere autonomi in realtà sappiamo anche che quelle giovani come quei giovani avevano già vissuto tutto perché avevano vissuto una guerra tremenda avevano dovuto assumere responsabilità molto grandi sulle loro spalle fare delle scelte di rimenti stare da una parte o dall'altra e anche molte donne voglio ricordarlo scelsero scelsero di stare dalla parte giusta scelsero di sostenere la guerra partigiana chi fece la staffetta chi ebbe anche un ruolo attivo nella resistenza o comunque la loro vita fu in ogni caso sconvolta e dovettero sopportare sacrifici e fatico sostituire sostituire nelle città nelle campagne gli uomini che erano al fronte erano con altri impegni quindi sicuramente delle ragazze molto toste io le immagino così le penso così con anche grandi attese e grandi aspettative perché certamente c'era l'attesa della nuova Italia e del nuovo mondo forse oggi possiamo pensare con meno strumenti probabilmente noi sappiamo che il tasso di istruzione e di educazione era molto più basso ecco però c'era questa condizione oggi le nostre giovani danno per scontato di poter votare di avere diritti di avere pari opportunità è necessario che loro conoscano questa storia ma devono anche essere orgogliose di cosa sono perché oggi le nostre giovani sono molto preparate questa tranquillità nel considerare normale le pari opportunità le fa anche essere nella maggior parte dei casi molto aperte nei loro sogni nella loro prospettiva di futuro credo sia più facile per loro pensarsi magistrata solo dal 63 le donne sono entrate in magistratura ma di nuovo oggi pensano tranquillamente a una carriera giuridica importante o magari anche di fare le astronaute perché non solo perché hanno visto Samantha Cristoforetti ma insomma perché c'è questa condizione allora forse noi un po' più grandi possiamo avere l'orgoglio di aver trasmesso questa queste possibilità con le leggi ma anche questa consapevolezza però bisogna ecco dare loro e credo che queste giovani debbano mantenere attivo questa loro questa loro forza mantenerla appunto attiva e questa loro consapevolezza renderla sempre praticata ogni giorno ecco perché il rischio che questi passi avanti che siamo riusciti da fare vengano messi in discussione c'è e quindi bisogna che appunto l'attenzione su questi su questi temi sulla presenza delle donne nella società rimanga sempre forte e attiva grazie beh intanto penso che quelle donne abbiano sognato abbiano desiderato quel momento lo abbiano vissuto con una grande realtà le donne che sono andate al voto la prima volta hanno costruito la storia una storia diversa perché certamente il loro voto in qualche modo ha cambiato anche la storia dell'Italia proprio ieri sera vedendo alcuni sondaggi ho riflettuto pensando anche all'incontro di oggi di quanto sia alto l'astensionismo e di quanto sia stato importante lottare per il diritto al voto ieri e di quanto poco oggi purtroppo ci si renda conto di quanto sia importante quella conquista ma non la si utilizzi e questo è un grande peccato perché nel 35-40% di astensionismo sicuramente ci saranno moltissime donne che con il loro voto potrebbero cambiare alcune situazioni penso ad esempio a quanto sia ancora complesso per una donna oggi votare una donna e questo è un come dire un tema su cui chiaramente dovremmo riuscire a riflettere io credo che entrare oggi in una cabina elettorale debba essere un momento ancora importante di emozione che il nostro voto sia fondamentale ecco anche qui e anche in questo caso tantissimo lavoro deve essere fatto con i nostri ragazzi nelle scuole per ricordare che la democrazia è stata difficilmente conquistata ma deve essere mantenuta e uno dei modi per mantenerlo è per l'appunto quello di andare a votare sì allora io credo che appunto vorrei tornare indietro con il tempo partire dal 1946 fare un po' di ricordare il periodo storico allora ricordiamoci che allora la donna che aveva raggiunto la maggior età aveva 21 anni e come già detto dalla collega che mi ha preceduto era una donna che sicuramente aveva tante esperienze alle spalle ma io credo che la donna di allora era una donna stremata stanca perché ricordiamoci che l'Italia usciva da un grande conflitto mondiale quindi era terminata da poco la seconda guerra mondiale c'è stata la caduta del fascismo e quindi è stata veramente una lotta una battaglia proprio voluta la donna che ha sempre lottato con determinazione per la prima volta poteva entrare nel mondo politico quindi poteva votare e poteva essere eletta le aspettative erano tante si apriva un nuovo periodo storico si apriva un nuovo periodo storico quindi un periodo di democrazia quindi c'era veramente una grande aspettativa da parte di questa donna che per la prima volta si recava alle urne che finalmente venivano riconosciuti i diritti i diritti che avevano tanto tanto voluto se se penso alla alla nostra vicina Inghilterra perché tutto è iniziato in Inghilterra penso al movimento femminista le suffragette che che lottarono con grande forza nel 1912 e il 1913 e ottennero il voto il suffragio universale l'ottennero nel 1928 in Italia abbiamo dovuto aspettare ancora 18 lunghi anni prima di arrivare al suffragio universale femminile e la cosa che mi ha colpito di più che mi fa riflettere e che dovrebbe far riflettere a tutti è che ricordiamoci che in quel periodo lì le donne le donne erano molto unite combattevano tutte insieme non c'erano non c'erano differenze sociali in questa battaglia cioè combatteva combattevano gli operaie insieme alle fasce alle fasce sociali più elevate perché c'era proprio lo spirito di battaglia e di conquista che le accomunava che le rendeva comunque le univa oggi la donna di oggi che si recca le urne che vota per la prima volta sicuramente non ha l'entusiasmo che aveva una donna nel 1946 anche perché la donna del 1946 lo ripeto ancora una volta andava a votare con un altro spirito uno spirito diverso con lo spirito di speranza di innovazione e di cambiamento anche se in realtà le cose sotto questo punto di vista non sono tanto cambiate in quanto negli ultimi anni si è verificata una una grave e una grande disaffezione politica da parte dei cittadini perché stanchi dal vecchio modo di fare politica perché comunque si avevano e si hanno delle aspettative diverse quindi noi che siamo qua per noi che siamo qua il messaggio che dobbiamo lanciare oggi deve essere differente deve essere quello di avvicinare tutti i cittadini alla politica in particolare le donne perché le donne con il loro voto possono contribuire veramente a cambiare le sorti e il destino del nostro paese molte donne ahimè si sono astenute dal voto hanno disertato hanno disertato proprio le urne elettorali proprio per questo motivo credo che ci debba essere più coscienza politica da parte di tutti che sinceramente sta venendo a mancare la coscienza politica e la partecipazione alla vita politica del paese si tende sempre a parlare a lamentarsi e io credo che sia giunto il momento soprattutto noi donne io sono una donna convinta sono sono per le pari opportunità ma sono una femminista convinta credo che veramente la forza è nelle donne noi donne tutte insieme unite perché quello che oggi manca rispetto alla ragazza del 1946 la ragazza la donna del 2016 ha una grande carenza rispetto a quella ragazza lì manca l'unione manca la collaborazione manca la coesione quindi se tutte le donne ci unissimo e ci credessimo veramente questo futuro la nostra Italia la nostra regione potrebbe veramente cambiare mi ritrovo in molte delle considerazioni fatte dalle colleghe credo anch'io che tra una ragazza ad essere una ragazza che si appunto votava per la prima volta 70 anni fa la differenza sia quella che dal punto di vista individuale sicuramente è molto cambiato la ragazza comunque che aveva vissuto certo dei periodi molto difficili probabilmente era sicuramente molto contenta e con grandi speranze rispetto al futuro 70 anni fa e da questo punto di vista certo ragionava secondo altri parametri anche nel rapporto nella propria famiglia e da questo punto di vista le cose sono cambiate molto e così come veniva detto una ragazza adesso si sente alla pari di un suo compagno e quindi da questo come rispetto a quelle che potevano essere invece le differenze 70 anni fa ma certo adesso però ha come già stato detto anche però più consapevolezza di sé come individuo ma meno fiducia in quelli che sono invece così i soggetti collettivi e quindi io credo che 70 anni fa ci fosse un entusiasmo e anche un credere effettivamente di poter cambiare adesso probabilmente c'è una maggiore consapevolezza delle proprie capacità delle proprie possibilità ma meno fiducia in quello che possa essere appunto una propria capacità di cambiare quella che è la società e quindi abbiamo appunto l'astensionismo che riguarda ragazzi e ragazze per la verità però forse le ragazze con così una forse disillusione magari ancora più accentuata e quindi io credo che sia nostro dovere e l'abbiamo detto tutte provare invece a far comprendere che in realtà le cose si possono cambiare e anche appunto non lasciando ad altri ad altre quelle che possono essere le decisioni sulla propria vita e quindi anche appunto determinando con il proprio voto le scelte quindi credo che forse dovremmo provare noi magari a cercare appunto di restituire una maggiore fiducia ai soggetti collettivi che possono essere i partiti i movimenti quello che si ritiene e che possono però andare diciamo ad incidere sulle scelte che poi effettivamente danno un'idea alle ragazze che ormai appunto dei diritti siano acquisiti e poi però nel tempo seppur magari questo non per diciamo teorizzare una superiorità femminile ma sappiamo che a scuola anche all'università le ragazze in genere vanno meglio poi però questa uguaglianza man mano con quella che è la carriera professionale con il dover spesso fare delle scelte rispetto a una vita familiare più realizzata o una vita diciamo professionale appunto così che dia maggiori diciamo così successo che dia maggiori possibilità di carriera la donna è più spesso diciamo portata a dover scegliere e quindi nel tempo quella che la carriera vede gli uomini avanzare e le donne non dico retrocedere ma non avanzare e quindi forse la consapevolezza che invece con una propria capacità di scelta si potrebbe modificare questo diciamo cammino che non è necessariamente segnato forse potremmo provare proprio in una logica che non sia quella di semplicemente di fare un bilancio ma di vedere al futuro provare appunto a restituire una maggior fiducia alle ragazze che insomma determinate cioè che è possibile appunto costruire un cambiamento ecco questi vostri ultimi interventi hanno quindi già sottolineato forse un apparente paradosso a cui assistiamo oggi cioè da una parte cresce più che mai la partecipazione politica alla vita attiva della politica delle donne molte donne ricoprono ruoli anche di responsabilità nelle istituzioni allo stesso tempo cresce l'astensionismo femminile la disaffezione alla politica e molti sono i problemi ancora nell'affermazione delle donne in molti ambiti della società allora vi chiedo che cosa c'è oggi oltre il voto cioè quali sono ancora i traguardi che bisogna raggiungere certamente tanti soltanto una considerazione io penso che 70 anni fa le donne fossero forti perché avevano schiere di figli da crescere famiglie da mandare avanti e una vita durissima io arrivo da un territorio montano e come dire sono del 1959 e ricordo la vita delle donne ad esempio nelle borgate dei miei territori quindi in qualche maniera quelle donne sono state pioniere di un futuro che poi è stato costruito e ci tengo ecco a rappresentare questo frammento la società è cambiata ci sono forse oggi fragilità diverse ma io penso come ben diceva lei che ci siano dei margini importanti che possono essere raggiunti e che possono migliorare la qualità della vita e avvicinare le donne alla politica ma non soltanto noi oggi in consiglio regionale abbiamo delle consulte abbiamo quella delle lette quella femminile e quella dei giovani e ci sono molte ragazze che partecipano con ruoli assolutamente attivi abbiamo il mondo dell'associazionismo che vede una forte presenza forse anche una prevalenza delle donne che danno dei contributi enormi posso immaginare con l'ottimismo che mi contraddistingue che i grandi risultati che possiamo ancora raggiungere sono molto determinati dal nostro esempio dal nostro modo di fare politica ad esempio mettendo al bando quella politica che crea lontananza cercando di essere presenti nei vari momenti del nostro Piemonte dove si parla di quello che la politica può fare e si semplifica in qualche maniera anche questo avvicinamento alla politica che spesse volte potrebbe anche preoccupare e determinare questa disaffezione io credo che la politica oggi debba essere semplice forte immediata capace di dare risultati e di dare delle risposte se la politica è così molte donne si avvicineranno perché perché a mio parere la caratteristica delle donne è la concretezza ed è questa che in qualche modo si deve fare un pochettino avanti quindi non soltanto rotolarci nei problemi ma cercare di uscire dai problemi cercare di dare qualche sprazzo di luce certamente cammino è cosa non facile da farsi ma dall'altro lato sicuramente una possibilità altrimenti che cosa succederà succederà che questi 70 anni di conquiste molto probabilmente li celebreremo un pochettino in sordina significherà che l'emozione al voto di queste donne di 70 anni fa che forse hanno anche un pochettino faticato ad avvicinarsi a questo momento ecco sarà una battaglia in qualche maniera persa e resa vana personalmente voglio che non sia così il mio ricordo è nella scuola dove ho frequentato le elementari una pluriclasse di una borgata con un ministro che veniva puntualmente a farci visita era Paola Savio ogni anno scolastico come dire frequentava visitava le scuole del Piemonte o per lo meno le piccole scuole certamente sì perché io ricordo questo momento allora voglio fissare questo momento voglio sperare che sia così e che si possono replicare quelle buone pratiche di allora anche oggi proseguiamo in realtà nei nostri interventi nei commenti anche le domande precedenti abbiamo già un po' toccato questo questo tema di cosa manca ancora di quali possono essere i traguardi io sto provando un po' mentalmente credo si tratti anche di distinguere innanzitutto fare questa considerazione che è necessario che le donne siano messe nelle stesse condizioni per poter raggiungere i risultati e quindi una dei primi dei primi limiti e dei primi impedimenti al raggiungimento di traguardi ulteriori sono le pari condizioni allora tornando alla politica ecco che c'è sicuramente il tema dei costi delle campagne elettorali dell'affrontare una una candidatura e questo è stato in questi anni un elemento forte di discrimine alla partecipazione alla presenza delle donne e anche alla possibilità di successo e così come già lo ricordavo prima in ogni caso le norme le regole che impongono una parità impongono presenze paritarie sia nelle liste che negli organismi di decisione questo è indispensabile c'è bisogno di questo elemento tenendo conto che come dire il tetto di cristallo insomma quello da sfondare ancora la presenza nei ruoli decisionali allora sicuramente prima si è ricordato la legge Mosca che impone la presenza paritaria nei consigli di amministrazione allora c'è ancora bisogno di lavorare dal punto di vista legislativo io credo sia indispensabile e con un rischio che abbiamo anche già verificato e alcune sociologhe l'hanno già anche sottolineato che una presenza forte delle donne in alcuni ambiti in alcune professioni rischia di svilirne il valore sociale ahimè è un dato che non mi piace di per sé però dobbiamo prendere in considerazione noi ci assistiamo fenomeni per i quali una femminilizzazione di quella professione porta anche a una diminuzione di ruolo sociale penso al ruolo dell'insegnamento io sono anche un'insegnante una docente però è così sappiamo la crisi della scuola e la crisi del ruolo docente che è anche in qualche modo correlato a questa forte femminilizzazione e così c'è il rischio che accada anche in altre professioni è un fatto culturale che dobbiamo combattere ovviamente e quindi non ci deve fare ovviamente arretrare a fare in modo che le donne partecipino dicevo prima delle parità di accesso un altro dato su cui possiamo ovviamente che possiamo prendere in considerazione è quello che ogni qualvolta l'accesso sia garantito in modo pubblico trasparente concorsuale le donne sono in maggioranza le donne vincono quindi appunto nella scuola piuttosto che in quello che sono i lavori pubblici nel pubblico impiego quella che è la carriera della magistratura e dove quindi si accede per concorso le donne sono in numero maggiore quindi le capacità ci sono è necessario che ci siano appunto che siano messe in atto le pari opportunità le pari condizioni per potervi accedere i traguardi sono ancora sono ancora molti forse sono ancora appunto nel pensare che non esistano professioni per uomini e professioni per donne in assoluto e rispetto a questo noi assistiamo ancora alle facoltà di ingegneria dove la presenza di donne è ancora troppo modesta di ragazze è ancora troppo modesta e che non esista come dire esistono degli ambiti dove non c'è la possibilità per le donne di esercitare il loro ruolo e la loro presenza questa credo sia un po' la battaglia da fare ancora nei prossimi anni anche io credo che siano necessarie delle leggi e quindi da questo punto di vista delle leggi che facciano anche delle forzature non chiamiamole quote rosa perché probabilmente forse è un così è un modo anche proprio per quasi così svilire quello che invece è un'esigenza chiamiamole norme antidiscriminatorie e sicuramente la già citata legge Golfo Mosca sta portando ha portato dei risultati e però forse lo sforzo successivo è far comprendere proprio come quella che è una quantità diversa della presenza delle donne nelle posizioni apicali nei luoghi decisionali determini anche una qualità diversa delle decisioni perché forse questa è la battaglia che dobbiamo sempre avere davanti a noi una qualità diversa che però possiamo portare avanti se insieme alle leggi sicuramente proviamo a costruire quello che è un cambiamento culturale valoriale che parte appunto dal lavoro che può essere portato avanti nelle scuole in tutti gli ambiti proprio nel superare come si diceva gli stereotipi il fatto che necessariamente ci siano professioni ruoli al maschile al femminile e forse io faccio un appello anche a noi donne dobbiamo forse credere un po' di più in noi credere maggiormente nella nostra autorevolezza perché spesso questo bisogna anche riconoscerlo aspettiamo che l'autorevolezza ci venga data in qualche modo da invece una presenza maschile o comunque proviamo ad annullarci un po' a omologarci come si dice a quelle che sono appunto delle prospettive dei riconoscimenti al maschile noi per prime proprio perché spesso riconosciamo e quindi ritorno anche alla questione appunto del fatto che una femminilizzazione di una professione divenga quasi insomma non un disvalore ma un minor riconoscimento della sua importanza penso che appunto tutte noi dobbiamo provare a costruire tanti pezzetti insieme perché su quello che può essere appunto un cambiamento culturale non esiste l'azione ne esistono tantissime e forse io questo lo registro su quella che poteva essere per esempio una battaglia sulle pubblicità offensive che utilizzano l'immagine femminile e non contribuiscono quindi a un cambiamento culturale bisogna dire che in molti anni non abbiamo fatto tanti passi avanti e quindi probabilmente forse perché le prime a non crederci troppo sono le donne e forse su questo un compito maggiore da parte nostra di puntare sempre di più su quello che deve essere il cambiamento culturale perché altrimenti appunto possiamo fare tantissime leggi ma il cambiamento culturale non determina quello che può essere appunto un passo quello che può essere un passo avanti nella società rischiamo di non avere questo passaggio che noi riteniamo importante con l'idea magari un pochino utopistica che sappiamo essere poi una cartina al tornasole per tutti gli stati dove le donne stanno bene tutti stanno bene e quindi quello che noi vorremmo portare avanti è un miglioramento per la condizione delle donne che però poi si traduce in un miglioramento di tutta la comunità Sì io voglio riprendere e iniziare la mia considerazione partendo appunto dal cambiamento culturale io credo che ci sarà un vero e proprio cambiamento culturale nel momento in cui ci saranno pari diritti dignità e rispetto nei confronti delle donne il discorso della disaffezione che abbiamo anche già affrontato nelle risposte precedenti la disaffezione politica che non è assolutamente da sottovalutare è molto importante io credo che il nostro ruolo noi siamo delle donne che dedichiamo con grande passione almeno per quanto mi riguarda ma accomuna tutte le persone che sono sedute qua e credo tutte quante le donne che svolgono un ruolo politico noi siamo qua e vorrei ricordare e mettere in evidenza sottolineare perché ci tengo in particolar modo che noi siamo qua al servizio dei cittadini e la politica è al servizio dei cittadini e non sono i cittadini che sono al servizio della politica credo che bisogna abbattere questa barriera questa barriera che c'è stata fino adesso c'è stata fino adesso questa barriera io credo che sia importante il nostro ruolo importante è che veramente è giunto il momento di andare nei territori di stare in mezzo alla gente di accogliere le richieste le istanze che i cittadini che i cittadini ci chiedono di portare avanti perché noi siamo la loro voce noi rappresentiamo i cittadini in questo palazzo nel nostro contesto e quindi credo che andando appunto abbattendo queste barriere ponendosi allo stesso livello dei cittadini e quindi anche delle donne delle nostre delle nostre coetanee della nostra rappresentanza femminile solo in questo modo possiamo veramente non solo abbattere quelle barriere ma veramente incrementare la presenza delle donne all'interno all'interno delle istituzioni non solo in ambito politico ma in tutti gli ambiti da quello lavorativo a quello economico io ho riflettuto tanto e rifletto spesso faccio delle lunghe riflessioni sul ruolo della donna credo che appunto abbiamo raggiunto dei grandi risultati però io voglio lanciare anche un appello a tutte le donne lo ricordo in primis a me stessa e poi vorrei lanciarlo a tutte le donne ricordando alle donne che noi oggi abbiamo dei diritti che questi diritti sono garantiti ma non siamo sicuri che questi diritti li avremo per sempre perché nulla può durare per sempre come le donne di allora che ci hanno preceduto hanno combattuto affinché noi oggi avessimo questi diritti questi diritti dobbiamo tenerci ben stretti e dobbiamo continuare ad incrementare il mantenimento di questi diritti lavorando a livello normativo concordo quando si dice che bisogna che bisogna comunque lavorare e dobbiamo riprendere alcune leggi che ci sono delle leggi che sono obsolete altre per fortuna come già citate sono delle leggi nuove che ci tutelano che rendono che permettono la parità tra uomo e donna altre invece sono dei testi normativi che sono ormai vecchi superati che bisognerebbe rivedere e abbiamo bisogno anche di normative nuove perché ripeto il cambiamento culturale avverrà solo ed esclusivamente quando ci sarà la parità dei diritti di tutti quando ci sarà il rispetto e quando ci sarà l'uguaglianza solo in questo modo noi possiamo cambiare il nostro destino e l'esempio e il messaggio che vogliamo lanciare oggi tutte insieme è proprio questo che la donna ha una grande forza la donna può veramente fare tanto e noi vogliamo essere l'esempio e vogliamo essere la dimostrazione che veramente tutto si può fare se si ha la buona volontà se si ha la voglia di cambiare se si ha la grinta se si ha l'entusiasmo e se si crede nei valori bene con questo buon auspicio terminiamo la tavola rotonda di notizie e nel ringraziare le nostre gentili ospiti salutandole ricordiamo che l'intera trasmissione del forum di notizie sarà visibile tra pochi giorni sulla social tv di CR Piemonte all'indirizzo www.crpiemonte.tv e sarà a breve anche disponibile come contenuto multimediale dell'app della rivista notizie della regione Piemonte grazie a tutti grazie a tutti